L'ATM è il suo nuovo direttore generale facente funzione, si tratta di Natale Treschitta che prende il posto di Vincenzo Puedomani, direttore di servizio della tramvia e della manutenzione bus e tram e direttore generale facente funzione dal 4 al 20 settembre. Prima di lui il facente funzione per un mese era stato Domenico Guerrera. La nomina del nuovo direttore generale ha già però suscitato le prime polemiche, in particolare a prendere la parola è stato il consigliere comunale Alessandro Russo. In un'interrogazione scritta ed indirizzata al sindaco Cateno De Luca, Russo chiede chiarezza sull'esistenza dei requisiti di legge e sulle precondizioni previste per la nomina direttore generale del dipendente ATM Natale Treschitta. Chiede inoltre che siano consultabili e visibili i criteri che hanno portato alla scelta di Treschitta, ma soprattutto un intervento concreto dell'amministrazione per la nomina dell'edigenza dell'azienda in base a criteri ispirati alla massima trasparenza. Questa mattina intanto in sala giunta, confronto tra il sindaco e i capi gruppo consigliari sul nuovo sistema di trasporto urbano, al centro del dibattito il percorso di modifica e rafforzamento delle modalità di trasporto urbano su gomma per arrivare all'abolizione del tram, esclusa qualsiasi ipotesi di privatizzazione del servizio.